Siamo ormai alla vigilia dell'8 marzo, giornata dedicata alla donna, ma anche una giornata particolare perché ricorre in questa data la festività di San Giovanni di Dio. Un appuntamento dunque che si rinnova con la fede, con la devozione popolare per il santo degli ammalati. Ne parliamo oggi ringraziandolo per aver accolto il nostro invito con Don Gaetano Federico, persona squisita, persona sensibile, che sia parroco delle chiese di Sant'Antonio che di Santa Maria Maggiore in Corigliano Centro, qui oggi nelle vesti tra l'altro anche di assistente spirituale della congrega del Santissimo Rosario, proprio che è attiva presso la chiesa di San Giovanni di Dio. Don Gaetano, festa liturgica di San Giovanni di Dio, le celebrazioni in corso e il perché soprattutto anche di questo importante momento religioso. Buongiorno a tutte, allora le celebrazioni in corso sono partite dal primo marzo, ogni mattina alle otto e mezza, la Santa Messa con le invocazioni al santo degli ammalati, che giungono, poi ci portano alla festa dell'otto con quattro messe, la mattina alle otto, alle nove, alle dieci e trenta e l'ultima, la Messa Solenne delle Ore, alle dieci e sette e trenta. È una circostanza liturgica questa molto cara ai coriglianesi, d'altronde tutti questi momenti vengono vissuti e c'è sempre una certa partecipazione anche in questo periodo, un po' diminuita a causa del Covid, ma sentita in modo particolare, soprattutto perché ancora siamo in tempi di Covid e quindi San Giovanni di Dio è particolarmente invocato. Del resto questi centri grossi del comune di Corigliano-Rossano, quindi abbiamo l'area urbana di Corigliano e l'area urbana di Rossano, sono proprio attenzionati da questa spiritualità legata a questo santo che è un po' l'antesignano degli ospedali. Del resto a Rossano c'era proprio accanto alla chiesetta un ospedale e qui magari gli storici potrebbero indagare meglio nel corso del futuro per comprendere anche la presenza di ospedali e quindi di cura dei nostri fratelli ammalati. Don Gaetano, cogliamo l'occasione per un'altra domanda. Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi nel nostro Tg di alcune nomine effettuate da Sua Eccellenza Monsignor Maurizio Aloisi e il nostro Orcivescovo, tra le quali quella la sua di assistente spirituale della Congrega Maria Santissima dei Sette Dolori, operante con tanto entusiasmo e tanta partecipazione nel Centro Storico. Se può dirci qualcosa di più, alla luce di questo anche suo nuovo incarico per il quale le formuliamo gli auguri, in vista anche appunto delle celebrazioni della Santa Pasqua. Ebbene, proprio così. D'altronde anche abbiamo nel Centro Storico di Corigliano più sacerdoti adesso che operano. Con me, come collaboratore, oltre a Don Giuseppe Pisani, c'è anche Don Vincenzo Ferraro che è tornato un po' a casa sua, nella sua parrocchia come viceparroco. E proprio grazie a questa fraternità sacerdotale si è potuta creare questa opportunità di aiuto, di sostegno alla Congrega Maria Santissima dei Sette Dolori. Proprio ieri abbiamo iniziato i venerdì che proseguiranno fino al quarto venerdì di Quaresima e poi inizierà il settenario che ci porterà proprio al ridosso della Settimana Santa. Riguardo alle celebrazioni, si faranno tutte quante, quelle naturalmente liturgiche, interne, nell'ambito della Chiesa, della Chiesetta. Per quanto riguarda invece quello che un po' si attende il popolo coriglianese, dobbiamo anche noi attendere i momenti opportuni perché bisogna naturalmente rispettare le indicazioni del Governo, di conseguenza la stessa CEI si attiene a queste disposizioni e la Dioce si cerca di coniugarle nel modo migliore possibile. Ma siamo fiduciosi perché sembra che a livello nazionale la situazione stia migliorando. Poi è normale che ogni regione e anche ogni comune deve fare i conti con la propria realtà. Però siamo fiduciosi. Vorremmo davvero tornare, anche se non in maniera piena e totale, ad esprimere attraverso queste espressioni di devozione profonda la fede sincera dei cittadini. E allora grazie a Don Gaetano Federico, complimenti per tutte le attività in in esser e grazie a tutti voi.